Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 Quanti anni avete? Io 22, sono Marco, Simone alla chitarra 17 e Daniele 18 Hai capito Carlo Flora? Sono giovanissimi E lui non può farlo ma lo farà Lui suona la batteria e canta Tu lo sai che è un cantante che suona la batteria e canta? È erradissimo È vero, è vero E lui adesso canterà solamente Ma sappiate che prima o poi Marco lo sentirete anche suonare e cantare Noi non vediamo l'ora Adesso però li ascoltiamo con quale brano ci state presentando? Si chiama The Right Chance È un nostro brano inedito Allora lo sentiamo Signora? 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 Tutto bene? Vuole sentirli? È pronta per ascoltarli? La signora è nelle vesti di Mara Maionchi Se tu le dici, sta lì? Esatto È vero Sta ridendo Francesco Aspetta facciamoli presentare a Carlo Flora Praticamente sono loro E li puoi presentare come i talenti della notte romana I talenti della notte romana Che ho visto si stavano preparando mentre tu parlavi Voi siete pronti ragazzi? Vi posso annunciare ufficialmente in diretta su Radio Radio? E allora su Radio Radio I noise from nowhere Radio Radio by Night Roma Presenta i nuovi talenti della notte romana Grazie a tutti 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 Grazie a tutti